ah ma secondo me comunque sicuro doggy uno che chiuserebbe moira senza curare guarda sì sì ma noi faremo finta di non vederla oh cristo ci spara ci spara doveri possibilmente al cannone doggy andiamo a riparare il prossimo colpo esplodiamo mio dio roti a madonna l'haist life movie mamma l'haist movie bambara bambam bambam corvis sentite la ricchezza che qualcuno apre ok niente prossimo affermata spazio porto spazio poruto stava davvero data davvero davanti di vita va pira pira bubù addoggi arrestato e poi è colato no sì mi ha mi ha buttato fuori e non ho amici che hanno un equipaggio ma come e allora probabilmente ha scoperto che sei una spia russa ma magari qualcuno mi pagasse it's been the 70 e arse cosa esco all'inizio raga eviti scosta la doggy ragà ma veramente ma adesso ha scoperto si sintetizzatori vocali che usavamo negli anni 90 lisa per l'rp per attirare le persone ignare il file di installazione nascosto in un cespuglio che fa aiuto aiuto sono una bambina in pericolo si si poi roda hai capito lo stro che è un trasmettitore lei preso credo si si me l'ha dato doggy bene bene alla buonanima oh no era già un po un po piccicaticcio è però te l'ho detto te l'ho detto è che mi sudano le mani è già però se ti fuori dai pantaloni quel suono tipo allora aspettate un secondino che sto anche io fabbricando gesù fabbrica anche tu il tuo gesù personale ma cosa l'ha detto eh l'ha detto il gesù personale ragazzi io c'ho l'idea stasera ci becchiamo tutti su skype che rinstalliamo apposta per fare serata braulio e tachipirina braulio e tachipirina ma anche vix vaporub regà che ne pensate ce l'ho anche quello mi piace io tra l'altro mi spalmerò i capezzoli di colori acrilici il vix non mi fa impazzire perché appiccicoso in quali occasioni l'hai usato fermo fermo non ricercare la partita fermo ho fatto ho fatto non è successo niente cosa è successo ok ok ora puoi ricercarla ma che paura un attimo devo sbloccare cose ti spavento davide ma non c'entro niente io è colpa di rob infilati dentro perché abbiamo due navi in culo che ci stanno targettando attracca questa merda attracca questa merda continua a dirmi chi assomiglio a power e a toristark e non so dove ma che penso in quale universo ma non lo so regà ma questo coglione con la porca puttana vi faccio scusate vi faccio un po di atmosfera guarda 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 questo è quello che faccio al billio nella terra lasciando lasciando prove a terra per confondere il nemico quando arriva capito capito io vado a sinistra ne manca uno mi scusi ma che caglia cosa vai ma che caglia cosa vai vedi che ti sei spostato però ok esatto che vuol dire vuoi un tesoro e vorrei darvi il benvenuto in questa nuova avventura è vero che c'è il fob ora ora ci si può sentire più come dei giocatori di code professionisti l'ho messa a 100 così vedo è veramente un cretinetico godi qualcuno ogni tanto mi chiama floppy e si flop perché è antiquato il classico nome da pagliaccio ed eccolo il pagliaccio floppy